Questo programma è in collaborazione con Einstein Space Buongiorno cari telespettatori, continuiamo la nostra passella Abbiamo visto il backstage, qualche intervista, un po' di baciata Ma ora si torna la sfidata Si potrebbe dire che finché c'è moda c'è Patty Farinelli E a seguire una new entry, Maison Blanche Dimenticato Iscriviti al 빠�감을 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti